Musica 39enne Thailandese denunciata dai carabinieri di Bra per favoreggiamento della prostituzione Pubblicizzava le prestazioni di due donne sue connazionali Dovrà rispondere di fronte al Tribunale di Asti Sono 150 i dipendenti della provincia di Cuneo che domani andranno a protestare sotto il Palazzo della Regione a Torino Rischio esuberi e taglio dei servizi Domani e giovedì la Granda presenta le sue eccellenze enogastronomiche ad Expo Intervista il direttore provinciale di Coldiretti Cuneo Enzo Pagliano che non risparmia qualche critica alla kermesse milanese Il sì dell'Irlanda ai matrimoni omosessuali fa discutere abbiamo chiesto un'opinione ai cunesi l'Italia non è pronta Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telegranda cronaca in primo piano cronaca che ci porta sul territorio di competenza dei carabinieri della compagnia di Bra i quali hanno denunciato una 39enne di nazionalità thailandese per il reato di favoreggiamento della prostituzione la donna dovrà rispondere di questo reato di fronte al Tribunale di Asti vediamo dunque il servizio nel quale vediamo qualche dettaglio in più su questa operazione Reati collegati alla prostituzione nel mirino dei carabinieri della compagnia di Bra nell'ultima operazione i militari hanno denunciato una 39enne di nazionalità thailandese per favoreggiamento della prostituzione la donna già con precedenti alle spalle dovrà rispondere del reato di fronte al Tribunale di Asti tutto è partito da quando i carabinieri hanno notato un anomalo andirivieni di persone in un appartamento situato nella periferia braidese dopo un periodo di appostamenti la procura di Asti ha concesso un decreto di perquisizione dell'abitazione a quel punto i carabinieri sono entrati in azione accendendo all'alloggio al terzo piano di una palazzina con l'aiuto dei vigili del fuoco all'interno c'erano due donne una 46enne e una 29enne entrambe thailandesi regolari con il permesso di soggiorno entrambe esercitavano l'attività di prostituzione la perquisizione dell'appartamento ha permesso anche di rinvenire le copie degli annunci che pubblicizzavano le prestazioni e il loro preziario la 39enne affittava i locali pubblicizzava l'attività di prostituzione con particolari annunci su riviste fornendo anche i recapiti telefonici per la gestione degli appuntamenti identificati durante l'operazione anche diversi clienti nessuno di loro salvo nuovi risvolti rischierebbe incriminazioni penali l'ex patron del premio Grinzane Cavour Giuliano Soria condannato a 8 anni e 3 mesi in appello per peculato e per delle violenze ad un domestico è stato ascoltato come persone informate dai fatti nell'inchiesta sul presidente uscente del salone del libro Rolando Picchioni accusato di peculato il verbale è stato secretato c'è una dichiarazione pubblicata dall'Ansa una dichiarazione di Soria mi fa tenerezza che un uomo di 79 anni debba passare un guaio del genere avrebbe detto appunto Soria uscendo dal palazzo di giustizia dopo le accuse nei giorni scorsi a Picchioni Interessa anche il Cuneese l'operazione coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti contro il contrabbando di sigarette a Costiglione Tinella è stato scovato e posto sotto sequestro un magazzino di stoccaggio Perquisizioni anche in granda da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Asti in collaborazione con i colleghi di Cuneo e Alessandria che hanno smantellato un'attività dedita al contrabbando di sigarette iscrivendo nel registro degli indagati 11 macedoni in particolare è stata individuata a Castiglione Tinella una delle basi logistiche di stoccaggio del prodotto altri magazzini in provincia di Asti a Canelli e Nizza Monferrato e nell'Alessandrino a Tortona e Pozzolo Formigaro da qui il tabacco di contrabbando veniva poi distribuito al dettaglio le indagini sono scattate nel giugno del 2014 i tabacchi prodotti in Egitto e stoccati in Tunisia arrivavano in Italia attraverso i porti di Genova e di Livorno con la compiacenza di camionisti che nascondevano la merce sui propri mezzi pesanti e si accordavano durante il viaggio in mare su luoghi e tempi di consegna indicando il quantitativo e la marca del prodotto di contrabbando un giro d'affari da 300.000 euro l'anno dall'agosto all'ottobre scorsi sono stati importati 250 kg di sigarette per un valore di 60.000 euro martedì mattina nel corso delle ultime perquisizioni i carabinieri hanno denunciato altre due persone sequestrando un centinaio di stecche di contrabbando il bilancio totale dell'operazione diventa così di 5 arresti e di 21 persone denunciate sequestrati 60 kg di sigarette e due articolati utilizzati per il trasporto l'assemblea legislativa piemontese ha deliberato all'unanimità l'istituzione di una commissione speciale con compiti di indagine conoscitiva per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi il compito principale di questa commissione è quello di proporre degli interventi finalizzati al contrasto delle infiltrazioni criminali nell'attività pubblica anche collaborando con altri soggetti altre istituzioni in particolare attenzione riservata alle attività connesse con l'assegnazione degli appalti pubblici allo studio di atti normativi e alla promozione della cultura della legalità coinvolgendo dunque magistratura università, forze dell'ordine terzo settore ed istituzioni scolastiche tema molto scottante negli ultimi tempi il futuro degli enti pubblici e la loro capacità di garantire i servizi ai cittadini ma c'è anche il lato occupazionale ovvero tutti i dipendenti degli enti pubblici che potrebbero anche rischiare il taglio del proprio posto di lavoro domani in regione si discute della relativa bozza di legge 150 dipendenti della provincia di Cuneo si uniranno ai colleghi delle altre province piemontesi per fare sentire le loro ragioni andranno dunque a manifestare a Torino nel servizio di Cristina Mazzariello qualcuno dei delegati che domani saranno a Torino Siete più di un centinaio di dipendenti della provincia di Cuneo pronti a partire domani mattina a Torino per una protesta per difendere i vostri diritti Sì, ne approfittiamo del fatto che è stata organizzata una mobilitazione nazionale delle province e noi in Piemonte insieme alle altre RSU piemontesi in occasione dell'incontro che ci sarà domani tra le RSU e le organizzazioni sindacali del Piemonte con la regione e quindi con il vicepresidente Reschigna in cui verranno presentate osservazioni al disegno di legge che ancora è in bozza e che comunque non garantisce a noi al momento la mancanza di esuberi nell'ente provincia per cui noi stiamo già facendo questa protesta da parecchio tempo perché siamo preoccupati per la mancanza dei servizi che eroghiamo ai cittadini e organizziamo oltre alla manifestazione di domani anche il 31 sarà organizzata in concomitanza con la tappa del Giro d'Italia a Torino da parte dell'RSU una forma di protesta in questo senso non solo noi saremo presenti anche giovedì al Parco della Resistenza insieme ai sindaci e al presidente per manifestare proprio questa preoccupazione per i tagli che il governo sta facendo alle province e quindi la preoccupazione di non poter più erogare come stanno già prendendo atto i cittadini percorrendo le nostre stade e i ragazzi a scuola vedendo la decadenza delle nostre scuole e per cui cerchiamo in ogni modo di far sentire la nostra voce La bozza di legge regionale che continua sull'onda delle precedenti bozze non ci soddisfa in particolar modo perché noi chiediamo che la regione Piemonte faccia una verifica completa di tutte le funzioni delegate attualmente in carico della provincia e che di tutte queste funzioni delegate la regione Piemonte se ne faccia carico con tutti i dipendenti e questo in ottemperanza quanto stabilito poi dalla circolare del ministro della funzione pubblica Madia ed è quello che hanno già fatto con leggi già approvate la Toscana e la Liguria in realtà la regione Piemonte non sta andando in questa direzione sta praticamente nella bozza è previsto che prende alcune funzioni solamente di quelle delegate di altre non cita nemmeno altre funzioni quindi non sappiamo bene se la regione le vuole ridelegare trasferire quindi non fa un elenco dettagliato di queste funzioni di altre funzioni addirittura ne fa una fregmentazione una parte andrebbe alla provincia una parte andrebbe alla regione ora non garantisce nemmeno nel testo della bozza di legge non è previsto nemmeno in che modo voglia finanziare queste funzioni quindi non garantendo il finanziamento noi non sappiamo se abbiamo i soldi per continuare a svolgere eventualmente all'interno della provincia questo ovviamente potrebbe anzi il rischio è quello di un esubero di un esubero dei dipendenti all'interno della provincia quindi noi chiediamo chiarezza alla regione Piemonte quindi prima di tutto chiediamo che si riprenda le funzioni dipendenti quindi evitando ogni forma di esubero e in ogni caso la regione deve garantire in che modo vuole finanziare queste funzioni in programma anche una manifestazione giovedì 28 maggio in questo caso al parco della resistenza di Cuneo in caso di maltempo invece al centro incontri della provincia manifestazione contro i tagli ai servizi per i cittadini sono invitati anche dirigenti scolastici studenti e le loro famiglie potrebbero essere in tanti alla manifestazione appunto organizzata dalla provincia per le 18 di giovedì 28 maggio come detto al parco della resistenza in caso di maltempo al centro incontri della provincia saranno presenti o dovrebbero esserci i 250 sindaci della provincia di Cuneo il prefetto i parlamentari cunesi e i consiglieri regionali della provincia tra i diversi servizi a rischio ci sono anche le scuole la provincia senza fondi non potrà più garantire il pagamento delle utenze nonché il riscaldamento la pulizia eccetera eccetera e tutti gli altri servizi dunque si preannuncia piuttosto tesa è sicuramente importante la manifestazione di giovedì 28 rimaniamo in tema con il prossimo servizio siamo sempre all'interno dell'ente provincia di Cuneo sempre per parlare di questi problemi relativi ai tagli da Roma e da provenienti da Roma e da Torino nel prossimo servizio scopriamo che cosa ha votato la provincia proprio per cercare di liberare risorse tempi duri per le province enti svuotati di significato ma con oneri ancora di fondamentale importanza strade scuole i nodi principali servizi che qualunque comunità civile deve garantire al cittadino la provincia di Cuneo soffre e continua a denunciare le difficoltà a cui andranno incontro i suoi concittadini previste nelle prossime 48 ore due manifestazioni distinte ma collegate tra di loro una dei dipendenti mercoledì a Torino di fronte al Palazzo della Regione l'altra forse ancora più clamorosa giovedì al Parco della Resistenza di Cuneo con i sindaci della Granda istituzioni a vario livello presidi insegnanti cittadini intanto il Consiglio Provinciale prova a fare quadrare i conti con le risorse a disposizione cioè poche nell'ultima seduta l'Assemblea ha votato la delibera per rinegoziare le rate dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e altri istituti l'obiettivo è risparmiare qualche risorsa in modo di poter varare il bilancio di previsione 2015 l'ammontare del risparmio sarebbe sui 5,3 milioni di euro e la legge prevede questa possibilità in sostanza le rate verrebbero prolungate permettendo alla provincia di fare fronte alle spese imminenti o almeno una parte di esse il voto ha ottenuto l'unanimità dell'Assemblea parliamo di occupazione nel primo trimestre 2015 in Piemonte più 11,7% delle assunzioni da gennaio ad aprile i contratti a tempo indeterminato sono aumentati del 54% pari a 14 mila procedure in più rispetto allo stesso periodo del 2014 crescita importante per quanto riguarda i giovani tra i 15 e i 24 anni si registra un più 111% sono alcuni dei dati sul mercato del lavoro in Piemonte illustrati durante il consiglio regionale straordinario parliamo adesso di montagna sempre partendo da un provvedimento votato dalla regione Piemonte arriva un aiuto interessante per le imprese agricole che operano sui territori montani piemontesi buone notizie per le imprese agricole dei territori montani piemontesi la cui sopravvivenza dipende molto dalle scelte delle istituzioni oggi e nei prossimi anni la giunta regionale del Piemonte ha approvato la concessione dell'indennità compensativa per le imprese agricole operanti in zona montana valida per il 2015 su proposta dell'assessorato alla montagna la regione ha accolto la richiesta avanzata dal mondo agricolo in particolare dalla Col di Retti condivisa una decisione che costituisce una boccata d'ossigeno vitale per le imprese in questo particolare momento storico ancora non si conoscono le modalità pratiche per rappresentare le domande di certo spiega l'ente di categoria valgono le regole del precedente PSR almeno ad oggi le altre indicazioni tecniche sono in fase di elaborazione da parte dell'assessorato regionale alla montagna quando saranno rese note saranno convocati gli imprenditori agricoli interessati dal provvedimento per la predisposizione delle domande le imprese agricole che operano in montagna afferma la presidente di Col di Retti Piemonte Degli Arevelli garantiscono al di là del discorso economico la salvaguardia dell'ambiente e la conservazione del territorio Nel pomeriggio di oggi il nuovo direttore generale dell'ASL Cune 1 Francesco Magni ha fatto visita alla regina Montis Regalis di Mondovi prima i reparti dell'ospedale poi l'incontro con i primari per iniziare a conoscere la realtà della sanità monregalese venerdì aveva visitato l'ospedale di Saluzzo mentre domani il direttore sarà a Savigliano giovedì 28 a Ceva le visite si concluderanno il 3 giugno con appunto la visita nell'ospedale di Fossano entro fine mese si attende la nomina del direttore sanitario dell'ASL Cuneo 1 e torniamo a parlare del mondo dell'agricoltura in particolare del punto di vista della Col di Retti rispetto alle prossime iniziative in programma d'Expo che coinvolgeranno a partire da domani direttamente la granda che potrà presentare le sue eccellenze enogastronomiche nelle interviste che ci ha recentemente rilasciato il direttore della Col di Retti provinciale Cuneo Pagliano non ha risparmiato qualche critica all'Expo ascoltiamo dunque poco meno di un mese fa veniva inaugurato Expo 2015 mastodontica che è armessa incentrata sul tema del cibo l'Italia punta molto sull'evento e per tracciare un bilancio si dovrà aspettare la fine della manifestazione il prossimo 31 ottobre non mancano tuttavia le prime critiche prezzi ed organizzazioni i punti più contestati ma qualche perplessità inizia a levarsi anche a proposito della coerenza con gli obiettivi di Expo intanto la granda si prepara a presentare le sue eccellenze gastronomiche con appuntamenti nelle giornate di mercoledì e giovedì al nostro microfono il direttore provinciale di Col di Retti di Cuneo Enzo Pagliano noi avremo una delegazione per due giorni presente presso il padiglione di Col di Retti con otto aziende che presenteranno a modo di esempio le produzioni tipiche alcune delle produzioni tipiche del territorio cuneese avremo poi più avanti altre opportunità per presentare tutte le produzioni diciamo migliori di queste che sono purtroppo numerose fortunatamente numerose per presentare appunto a tutti i cittadini del mondo Le sembra fedele ai suoi presupposti Expo? Beh sì è fedele per quello che presenta forse un po' meno fedele rispetto al titolo perché nutrire il pianeta spesso negli stand nei padiglioni si rileva solo tramite immagini e quindi che rendono al al cittadino partecipante un po' meno visibile quelle che sono le peculiarità del mondo alimentare Sarà Don Luigi Ciotti fondatore di Libera e del gruppo Abele ad aprire il Cuneo Montagna Festival 2015 del resto era stato già annunciato in occasione della conferenza stampa di presentazione svoltasi nei giorni scorsi giovedì 28 maggio dalle 17.30 al cinema Monviso Don Ciotti presenterà il suo libro Salire per scendere nel quale racconta il suo legame con le terre alte a partire da Pieve di Cadore dove è nato sino alle Alpi del Piemonte sarà questo il primo atto del festival che si snoderà fino al 2 giugno a Cuneo e nelle sue vallate con una serie di incontri concerti dibattiti presentazioni di libri animazione per bambini e tanto altro ancora cambiamo ora argomento il recente referendum popolare svoltosi in Irlanda ha detto sì ai matrimoni tra persone dello stesso sesso abbiamo dunque chiesto un commento un opinione ai cunesi intervistati nel pomeriggio di oggi da Cristina Mazzariello Nozze tra omosessuali l'Irlanda ha detto di sì con un referendum popolare secondo lei potrebbe essere un qualcosa che potrebbe accadere anche in Italia sarebbe giusto? Speriamo è già passato troppo tempo secondo me anzi quindi no no è ora sicuramente è giusto quindi secondo lei che anche gli omosessuali possano avere questa possibilità di sposarsi e di vedere riconosciuto questo diritto? Ci mancherebbe omosessuali coppie di fatto e omosessuali con figli senza figli insomma sicuramente l'Italia è pronta? No non credo c'è il Vaticano quindi non è pronta secondo me l'Italia dovrebbe adeguarsi a quella che sono il mondo attuale non penso che ci siano da fare delle valutazioni diverse se due persone sono in grado di fare delle scelte sono in grado anche di gestire una famiglia non penso che siano così differenti poi ognuno la può pensare come vuole dal punto di vista delle scelte quindi se ci fosse un referendum su questo argomento lei voterebbe sì a favore? Sì voterei sì perché ritengo che le persone siano in grado di prendersi le proprie responsabilità indipendentemente dalle scelte personali ma l'Italia è pronta c'è il Vaticano forse che storce il naso queste sono le valutazioni personali che ognuno può prendere in considerazione io ritengo che una persona possa essere responsabile in qualsiasi fase della sua vita se ritiene giusto poi ripeto non sono d'accordo sotto certi aspetti ma non si può limitare la responsabilità di una persona se ritiene di essere in grado di poterlo fare solo lui stesso può giudicarsi no l'Italia non è ancora pronta però lei sarebbe d'accordo oppure no? io sono d'accordo bisogna che l'Italia cominci a pensarci un po' perché sembra che questa gente lì abbia diritto come tutti gli altri tutto lì sinceramente non me ne può fregare di meno come si suol dire non è un mio problema nel senso che per me va bene qualsiasi cosa sono affari loro sono persone quindi hanno da vivere la loro vita loro vivono la loro vita io vivo la mia e va bene potrebbe essere l'argomento di un referendum popolare in Irlanda c'è stato hanno detto di sì penso che sia giusto così se vogliamo evolverci potrebbe essere anche un'idea quindi lei voterebbe a favore? certo tanto non non è ripeto non è un tra virgolette un problema mio e va bene così contenti loro contenti tutti l'Italia è pronta ad affrontare un referendum? purtroppo no purtroppo no lo vediamo tutti i giorni con varie cose sui telegiornali a scuola nelle varie realtà purtroppo penso che non siamo pronti per me penso che sia giusto anche che anche se sono omosessuali comunque dichiarino il loro amore che se si vogliono sposare per me sarebbe un voto sì quindi se eventualmente ci fosse un referendum in Italia voteresti per il sì ma secondo te l'Italia è pronta a questo tipo di votazione? secondo me l'Italia è uno stato chiuso quindi non approverebbe mai un referendum per il matrimonio omosessuale ecco tu cosa ne pensi? matrimonio civile tra omosessuali sì o no? io direi di sì perché comunque è la stessa forma d'amore tra un uomo è uguale tra non riesco tra una donna che è un uomo e quindi quindi non hai nessun tipo di remora su questo argomento l'Italia è pronta secondo te? secondo me no perché c'è l'ostacolo della chiesa comunque c'è il Vaticano e quindi non approverebbe questa cosa le interviste che abbiamo ascoltato sono evidentemente come avete avuto modo di capire pareri molto simili tra di loro tutti favorevoli alle unioni civili tra omosessuali non che mancassero le opinioni di segno opposto ma chi la pensava diversamente non ha ritenuto di esprimere il proprio parere al nostro microfono motivo per cui le risposte sono state tutte sono andate tutte nella stessa direzione parliamo adesso di politica di un appuntamento ormai imminente 15 comuni della grande al voto domenica 31 maggio come si vota torniamo a spiegarlo nel servizio 34 liste 34 candidati sindaco per 15 comuni sono i numeri delle elezioni in grande al voto nella sola giornata di domenica 31 maggio 23.336 cunesi urne aperte dalle 7 alle 23 per scegliere il sindaco e il consiglio mentre l'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo domenica 14 giugno al voto i comuni di Aisone Benevello Caprauna Carrù Castelmagno Castiglione Tinella Cortemiglia Costigliole Saluzzo Diano d'Alba Morozzo Peveragno Priero Roaschia Treiso e Vicoforte la scheda è di colore azzurro su cui saranno stampati i nomi dei candidati con accanto i contrassegni delle liste che li sostengono non si prevede il voto disgiunto per cui se si esprime una preferenza ad un sindaco automaticamente si vota la lista che lo appoggia importantissimo andare a votare nei comuni con una sola lista presente per raggiungere il doppio quorum ed evitare il commissariamento è il caso di Carrù dove si ricandida il sindaco uscente Stefania Ieriti e di Morozzo con il candidato Mauro Fissore sono due invece i candidati a Castelmagno più piccolo comune al voto che conta soltanto 87 elettori si sfideranno Pier Giorgio Donadio e Steve Giusti il comune con più liste invece a Isone quattro candidati alla poltrona di sindaco per 242 potenziali elettori i comuni più grandi al voto sono Peveragno 4832 elettori Carrù 3749 Vicoforte 2595 e Costiglio Alessaluzzo con 2588 votanti bene è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale come sempre un grazie per averci seguito l'agudo di trascorrere una piacevole serata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.